Il tema dei cammini riguarda l'amministrazione comunale di Porta Empedocle, ma riguarda anche la città di Agrigento, perché dal punto di vista ambientale il danno di quei cammini là non è un danno che si appartiene solo a un recinto, ad una penetrazione, ma si appartiene anche alla città di Agrigento che ha un suo parco archeologico di 1.400 ettari con vista sull'area rivierasca e inevitabilmente ci appartiene in maniera diretta. E per quanto riguarda invece la vicenda che ricade, l'imbiando che ricade sul territorio di Agrigento? Bene, su quell'impianto in cui hanno presentato uno studio di prefattibilità, bisogna vedere una serie di compatibilità che non solo sono di tipo urbanistico, che sono anche essenziali, ma in linea generale un impianto di biodigestore non ci trova contrari in linea di principio, sono impianti che si legano alla necessità del ciclo dei rifiuti attuali, alla realizzazione del biogas, allo smaltimento di quello che necessariamente non può che essere la parte dell'umido. Anzi, noi facciamo voti perché in provincia ne nascano tanti, io avrei cura però di questo, cioè non fare i mega impianti di gestione, i mega digestori per intenderci, quindi mega impianti di biogas perché poi hai il problema dell'impatto sulla viabilità di tanti camion con rifiuto che si muovono e questo va considerato. Quindi impianti medio piccoli in linea di principio sono impianti di necessità la Sicilia, di cui la Sicilia ha bisogno. Quello di cui si discute è un impianto di cui è stato presentato un mero studio di prefattibilità, non si capiscono anche i rapporti di tipo strategico economico che si hanno con le comunità che l'accolgono, cioè, tanto per dire, dovesse nascere un impianto di questo tipo, lasciamo perdere, in qualunque altra parte della città di Agrigento, ma io penso che il suo consiglio comunale, la sua amministrazione comunale, quella di Agrigento, non può che pronunciarsi su rapporti convenzionali che debbano vedere intanto due cose. Primo, qual è il costo dello smaltimento che fai pagare alla città ospitante l'impianto? Primo. In secondo luogo, se l'impianto è tarato, faccio di conto, Agrigento è diciamo delle cifre a caso, ha 10 tonnellate da smaltire, l'impianto ha una capienza di 25 tonnellate, le altre 15 tonnellate per ragioni di esistenza dell'impianto dovrebbero arrivare da fuori. Per queste 15 tonnellate che arrivano da fuori, io comune ospitante, che si chiami oggi Agrigento, si può chiamare Cammarata in qualunque altro modo, intanto parlo per il mio comune. Io schiererei il comune per un'idea di convenzione che ci debba vedere. Da un lato un abbattimento del costo sulla porzione di smaltimento nostro e nello stesso tempo, virgolettato, una misura compensativa su quella percentuale in più o su quel quantitativo in più che ti arriva. Sindaco, correggimi se sbaglio. Allora, logicamente sei favorevole all'impianto, perché tra l'altro l'energia pulita è che tra l'altro serve a smaltire quello che è il problema dei problemi, no? Ma da quello che ho capito non è il sito adatto e allora... No, ma io ho fatto un ragionamento intanto sull'impianto. Gli impianti in generale di biodigestione sono impianti che servono alla Sicilia, ma servono in generale. Non sto parlando di quello, per cui ti ripeto quello è un impianto per cui ad oggi il comune di Agrigento beneficia semplicemente di uno studio di prefattibilità. No, perché sarebbe opportuno questo impianto magari prevederlo nella zona industriale di Agrigento che tra l'altro è raggiungibile dalla strada di Agrigento Palermo, subito paragone, insomma, sarebbe anche una cosa che va lontana e mi riaggancio al tuo ragionamento, lontana dal parco, dai templi e da quello che si vuole ultimamente fare di Agrigento, ma anche di Portembedocle, cioè turismo, turismo, turismo e notizia a Portembedocle. Le hai iniziata tu questa attività delle navi che possono entrare nel porto e che appunto hanno intenzione di sfruttare al massimo in questa possibilità o sbaglio. Quello che si situa, diciamo, ha una linea certamente di accettabilità dal punto di vista delle riflessioni che fai. È evidente che un'iniziativa viene proposta da privati e quindi le pubbliche amministrazioni poi devono rispondere al privato, cioè se Bosio domani mattina vuole aprire un negozio in Via Tenea piuttosto che a Via Dante, non sarà l'amministrazione a dire, devi farlo qui piuttosto che lì. Però certamente dentro, e mi riallaccio da dove sono partito, dentro un'economia di gestione di un territorio inevitabilmente questo confronto non può non esserci di più. Io poi adesso non è che faccio analisi in profondità. Tante cose occorre ancora comprendere di questo progetto. Per esempio, una delle cose che vediamo, ma questo non è assolutamente vincolante, che il proponente è un proponente che non ha esperienza di questo settore. È un'azienda, se non ho capito male, che svolge attività di impianti elettrici in aria industriale, quindi un altro sostanzialmente mestiere. Però per carità in un certo momento della vita si può fare anche un'altra cosa, quindi non è questo che può essere elemento di disturbo. Sommessamente questo lo faccio anche rilevare. Poi ci piacerebbe comprendere di più su molti altri aspetti, per esempio a questi studi a cui io facevo riferimento sulla viabilità, che sono assolutamente essenziali, dai livelli di traffico dove si pensa in relazione al tornellaggio di farli arrivare. ... ... ... ... ... Grazie a tutti.